Pantarei è questo il nome dell'operazione condotta congiuntamente dalla Guardia di Finanza e dalla Polizia di Stato che ha disarticolato un'organizzazione criminale dedita al traffico di stupefacenti tra la Sardegna e la Campania. Il blitz dei finanzieri del Comando Provinciale di Cagliari e degli agenti della squadra mobile del Capologo Sardo è scattato stamattina all'albero e ha portato all'arresto di 11 persone, 8 residenti a Cagliari e 3 in Campania. Tra i cagliaritani sono stati arrestati i componenti di un'intera famiglia. Le fiamme gialle hanno anche messo sotto sequestro beni mobili e immobili per un valore complessivo di 4 milioni di euro. I particolari dell'operazione sono stati resi noti stamattina nel corso di una conferenza stampa ospitata nella questura di Cagliari. L'indagine, coordinata dalla Direzione Centrale dei Servizi Antidroga, è iniziata tre anni fa e ha portato alla scoperta di un soddizio criminale che operava con le modalità tipiche del metodo mafioso, è stato detto. Secondo quanto emerso dall'inchiesta, nell'arco di due anni dalla Campania sono arrivate in Sardegna 10,4 tonnellate di ascici suddivise in 30 carichi. Le spedizioni, è stato spiegato nel corso della conferenza stampa, avvenivano con la copertura dalla società alimentare Savi di Napoli e a favore di una cagliaritana fittizia chiamata bevanda distribuzione riconducibile ad uno degli arrestati. Grazie a tutti.